Come vi dicevo il risultato è veramente apprezzabile, il prodotto è questo come vi ho già detto l'ho trovata adesso in offerta da Tosano a 90 centesimi nel reparto su Gerard dove una volta tenevano di più il cuorno, ultimamente il cuorno si trova poco e non ho capito perché e stavo aspettando anche se io sapete non sono una grande stimatrice però ho mia figlia che lei invece lo usa molto. Comunque questo vi consiglio di provarlo, al di là insomma che fa impressione vedere scritto così, però effettivamente per chi apprezza, per chi non ha grandi abilità culinaria o non ha tantissimo tempo, è una buona alternativa per preparare dei piatti veramente gustosi e si può fare così, si può fare con le patate, spezzatino di patate col pomodoro, con mille ricette insomma per conto mio perché è versatile ed è saporito veramente, provatelo. Un abbraccio e alla prossima!